Zio Attilio era un'istituzione a Gesualdo, 79 anni ma guidava ancora la sua auto e spesso si intratteneva davanti al bar a fare due chiacchiere con amici e conoscenti. Persona pacata e tranquilla, l'intero paese nell'apprendere la notizia della sua morte è rimasto profondamente colpito dal dolore. Sembra per una tragica fatalità, per una serie di circostanze sfortunate, un incidente con il suo fucile legalmente detenuto. Intorno alle 8 di questa mattina, Attilio Iannuzzi ha notato per l'ennesima volta una volpe gironzolare intorno al suo pollaio. Così, nel timore che l'animale potesse attaccare le galline, ha preso il fucile da caccia ed è uscito con l'intento di sparare qualche colpo in aria e scacciare la volpe. Pare però che sia scivolato o inciampato, il fucile gli sia caduto e sia partita una scarica di pallini che lo ha colpito al petto. Per il 79enne non c'è stato nulla da fare. La moglie si è accorta dell'accaduto ed ha chiamato i figli di soccorsi, tutto in vano. L'uomo viveva in una zona di campagna, contrada a Sterpaia Veronica, in prossimità dei confini con Paternopoli. Sul posto i carabinieri di Gesualdo e della compagnia di Mirabella, diretta dal capitano Domenico Signa. Aperta a un'indagine per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente ed escludere altre circostanze, la salma è stata trasportata nella tanatologia dell'ospedale Criscuoli di Sant'Angelo dei Lombardi per l'autopsia di rito.